Signore e signori benvenuti all'Avion, si gioca la partita del girone B PTTL contro Ciaccarella, le due squadre più giovani del sbordone League, di cui una squadra esordiente in questo torneo, la squadra di Geni Ruggero, ovvero in maglia Granata. Qui subito il loro pallone è rinviato dal difensore, arriva Ciro Montuori che guiderà i Ciaccarella di Alessandro Nasti, ex Uccidiamoli, in questa avventura. Attenzione, c'è un altro passaggio. Punizione in due, Vagliazzetta, conclusione 1-0 per i Ciaccarella, segna il suo primo gol, Gigi Giazzetta prelui le marcature per questa nuova stagione, il ritorno del Giaguaro. Collo lì, il traditore degli imbianchini, lo scorso anno. Batte i facciati col sinistro, palla che scende, facciuti. Va Nasti, ha la battuta del fondo, palla lunga, buon auguro a cercare palla. Nicolosi, che ha abbandonato il suo Monaco per far parte di questa nuova squadra, ovvero EPTTL. Monaco all'indietro per Nicolosi, ancora Monaco, all'indietro per il centrale di difesa della formazione Granata, palla a nessuno, rinvio dal fondo per i Ciaccarella. Batte il portiere, arriva l'intervento difensivo, poi Ruggero cerca un pallonetto. Buon auguro, col sinistro, mette giù, alza la testa, buon auguro, prova a passare mezzo a due, buon auguro, riesce in qualche modo poi la chiusura di Ruggero. Nicolosi, contropiede dei gioiellini, Maglia Granata, qui Monaco, trattenuto da Ciro Montori, calcio di punizione in favore del PTTL. Occhio a lui, Nicolosi, numero 45, anche se non c'è su questa casacca, 62 gol in nazionale, va col sinistro e mezzo, colpo di testa a rinviare. Poi, occhio al numero 45 che rinvia. Rimessa laterale in favore di Ciaccarella con Nasti. Palla lunga, occhio, non ci arriva nessuno. Occhio alla progressione di Nicolosi che però non trova Monaco, allora tutto da rifare per il PTTL. Rimessa laterale per Gigi Iazzetta, per il Ciaccarella. Che va avanti, cercare il dottore Bonaurio. Prova a passare con la forza fisica, esce il portiere della formazione del PTTL. Incolpevole sul gol. Occhio a lui, va là dentro. Lo chiameremo Raffaele. Perché è uguale al giocatore del Manchester, anche con la maglia dei Red Devils. Qui esce Montuori, straordinario. Nicolosi gli sbarra la strada e recupera. Straordinario Nicolosi, conquista un fondo. È in formissima. Fabio Nicolosi. Palla a Raffaele. Scendi, scendi. Ancora Raffaele, scende. Buono il passaggio per Monaco, chiude, però... Gionatore del Ciaccarella. Va Raffaele alla rimessa laterale. Ancora a Monaco. Raffaele, dentro. Colpo di testa. Occhio a Bonaurio, non ci arriva. Raffaele, attenzione ai pasticci. Arriva Montuori. Tacco per Nasti e palla in rete. 2-0 per il Ciaccarella. Occhio a questa punizione. Va alla sinistro del nuovo giuninio per Nambucano. Fabio Nicolosi. Scorsa edizione ha già segnato 8 gol e mezzo. Su punizione. Bassettiri in porta, vedo se si segna. Va Nicolosi, col sinistro. Barriera. Poi Facciuti. Cerca Monaco. Messa laterale per i Granata. Monaco dentro. Iazzetta in qualche modo. Ruggero la tiene. Poi Monaco. Ruggero. Buono lo scambio. Chiude. Gigi Iazzetta con le lunghe leve. Palla lunga. Montuori di testa. Illumina Bonaurio. E spinge un po' Nicolosi. Rimessa laterale per la formazione del Ciaccarella. Palla per Nasti. Si gira. Nasti finta. Chiude. La formazione è Granata. Prova a ripartire con Monaco. La tiene. Nasti su di lui. Ancora Monaco. Si gira. Nasti su di lui. Riesce a rubargli palla. Contropiede. Nasti. Per Montuori. In aria. E c'è il 3 a 0. Ciro Montuori. Inizia la nuova edizione. Così come aveva finito quella precedente. C'è un suon di gol. Alla battuta. Jenny Ruggero. Paco al destro. Barriera. E poi rimessa laterale. Occhio. Pallone per Monaco. Che la perde però. Allora prova la ripartenza. La formazione del Ciaccarella. Ottima la chiusura di Rafael. Palla in avanti. Poi passaggio verso Facciuti. Non arriva. Giazzetta. Buonaurio. Arma al sinistro. Un gol meraviglioso. Totore Buonaurio. Nell'incrocio. Eccolo qua. L'ex capitano dei piccioni comunali. Della prima edizione. Straordinario. Va Facciuti. Col sinistro. Palla in angolo. Abbattuto Nasti. Cacciano d'angolo. Va Monaco. Palla dentro. Forte. Esce il portiere. Nastiri in via. Portiere la tiene. Attenzione. Vediamo. Con le mani. Cerca lungo Monaco. Lo trova. Monaco fa un dribbling. All'indietro a Rafael. Palla lunga. Per Ruggero. Rimessa laterale. Palla a Ciro Montori. Salta all'uno. Montori. Montori. Destro. Deviazione. Calcio d'angolo. Montori. Palla dentro. Arriva Nasti. Mette giù. Prova il numero. Arriva Rafael. Occhiali da Jenny Ruggero. Palla in alto. Serve a Monaco. Buono all'uno. Due. Spettacolo. Attenzione. Bacca al sinistro. Facciuti. Calcio d'angolo. Un'azione meravigliosa. Degli esordienti del Pitl. Palla dentro. Monaco di testa. Provano a prendere confidenza col campo. I nuovi entrati. Qui spettacolare l'azione. Coltacco di Ruggero. Che ha illuminato Facciuti. Attenzione. Non è finita. Palla per Monaco. Ancora Monaco. All'indietro a Rafael. Qui sbaglia il passaggio. Riparte Nasti. Contropiede. Nasti velocissimo. Montuori. Non ci arriva. Palla dentro. Colpo di testa di Buonaurio. Spitta di Nicolosi. Tanto che basta. A non fargli trovare la porta. Ragabulti ovvero Rafael. Palla dentro. Gianni Ruggero. Non controlla. Poi ancora Ruggero. Scatenato. Palla rimessa laterale. Nicolosi. Dentro Ruggero. Ancora di prima. Chiude. La formazione del Ciaccarella. Qui colpo di testa di Tonino. Schioppa l'arbitro. Nicolosi. Dentro. Occhiali trattenute. Palla in aria. Nessuno calcia. Allora Montuori. Litiga col pallone. Poi lo riesce a tenere. Allarga per Iazzetta. Buono il gioco della formazione del Ciaccarella. Iazzetta. Semina il panico. Fatti fuori i due. Palla dentro. Facciuti. In chiusura. Serve Nicolosi. Nicolosi. Alza la testa. Palla nel traffico. Non arriva a Monaco. Raffaele. Per Monaco. Prova il passaggio. Debole però. Ancora Monaco. Ad attaccare. Rimessa dal fondo. Palla a Nasti. La tiene. Allarga. Arriva il pallone a Iazzetta. Alza la testa. Montuori. Bello lo scambio. Iazzetta. Liscia. C'è la gesura. Provano a ripartire Granata. Buon a Urio però. Nasti. Iazzetta. Occhio al sinistro. Ancora Iazzetta. Riesce a chiudere Monaco. Prova a partire in velocità Monaco. Di forza Monaco. Va giù. Rimessa laterale per Ipittl. Palla dentro. Ruggero. A domestica. Cerca l'1-2. Non va. Palla lunga. Arriva Raffaele. Chiude. Poi il pallone verso Ruggero. Allarga. Ma non trova il suo compagno. Iazzetta. Di precisione. La tiene lì il portiere del Pittle. Che provano ora a costruire un'azione. Monaco. Ruggero. Bellissimo lo scambio. Va col destro. Blocca però il portiere del Ciaccarella. Ancora però una chiusura. Facciuti. Mette giù. Il numero 10. Cerca qualcuno. Fabio Nicolosi commette fallo. Iazzetta sul pallone. Andiamo un po'. Cerca il posizionamento dei propri compagni. Vai a zetta. Palla nel traffico. Alta. Salta Montuori. Occhio. A questo intervento. Buonaurio. Poi palleggia. Raffaele rinvia. Calcio d'angolo. Ciro Montuori dalla bandierina. Palla dentro. E' il gol di Buonaurio. Di testa. Cinquina Ciaccarella. 5 a 0. Buona la chiusura di Facciuti. Va col sinistro. Facciuti. Non va. Palla lunga. Montuori. Attenzione a Fabio Nicolosi. Chiusura. Arriva Buonaurio. Poi Azzetta. Allarga il gioco. C'è l'arbitro avanti. Non si vede nulla. Facciuti. Prova lo scambio. Arriva Raffaele. Alimenta l'azione. Palla dentro. Colpo di testa di Ruggero. Buonaurio. In chiusura. Poi Nicolosi. Come può. Nasti. Prova il dribbling. Gli Azzetta. Palla che rimane lì. Gli Azzetta. Allarga tutto. Verso Montuori. Con l'esterno Fabio Nicolosi. Come mette fallo. C'è stato il gol pazzesco di Ciro Montuori. Battuta a sorpresa. Ingannato il portiere. 6 a 0. Ciaccarella. Guardate Nasti come se la ride. Guardate là. Buffone Nasti. Batte il pit. Fabio Nicolosi. Palla per Facciuti. Buono il dribbling. Allarga Raffaele. Ok. Alla dribbling. Bravissimo qui. Attenzione riesce a passare. Buonaurio. Buonaurio. Palla alta. Nicolosi va a rinvio. Palla fuori. Ci fermiamo per la prima parte. Risultato 6 a 0. Ciaccarella. Buonaurio. Grazie.